Dermacy Resurfacing Autodropper Postop è un siero che rende più morbida e liscia la pelle, migliorando il rinnovamento cutaneo. Accelerando il ricambio cellulare, la superficie della pelle apparirà più sana. All'interno del nostro Resurfacing Siero troviamo due principali ingredienti, l'acido ialuronico idratante e ristrutturante e la pappa reale antinfiammatoria antirughe con proprietà cicatrizzanti. Suggeriamo di utilizzare il Siero Resurfacing in caso di pelle secca, pelle spenta, pigmentazione e come antirughe. L'estremità del prodotto è in versione automatica, quindi suggeriamo di girare in senso orario o anti-orario per aprire o chiudere il siero. Come ultimo passaggio suggeriamo di applicare il siero sul viso ed il collo massaggiandolo delicatamente fino a completo assorbimento. Il siero ovviamente non necessita di risciacquo. Dermastir Resurfacing è manifatturato in Francia dal Tagare Laboratoire.